Sè... Ciao, bello! Ciao, 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 ciao! Lo stealth saluta, amabilmente. Ringraziamenti per averci provato. Ciao, bello! Hi, Warriors! What's up? Ma nemmeno su Max Antigone. Siamo nuovamente qui. Su Max Payne. Stavo per dire Cryo Fear, ma questo è Max Payne. Però non avete tuttamente una video puntata. Quindi... Direi di andare avanti. Lo so che è dura, ma dobbiamo muoverci. Fotti di Puzzles. Fammi raccogliere tutte le ammo che ci sono. Fermati un attimo, Puzzles. Ci sono altre munizioni? No? Assolutamente no? Che perchè lui è schizzato via... Come un... Demente. Forza! Dove? Ok, mi sto perdendo. Oh! Di qua! Di qua! Passo! Cristo! Nooo! Oh, cazzo! Cazzo, ma non mi puoi far spawnare qui! Sei un bastardo! Ok. Dov'è l'altro che stava qui? Qui! Qui! Sta qui! Fail, bro! Fail! No, fail mio! Fail mio! Fail! Girati! Girati, Max! Girati! Oh mio Dio, per un attimo ho immaginato che non si girassi abbastanza in fretta! Muori! Vieni qui! Ui! 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 Ah, un Vigo lo cieco! Ok, per niente, per niente! Si torna indietro? Caffè, pizza, zucchine? Dov'è? Ma sai caffè? No? Fa niente! Fa niente! Fa niente! Dai cazzo, Pazos! Sei più vecchio, sei più lento di una nuca morta! No! Qui dovremmo stare più tranquilli! Ultime parole famose! Ok, è bello! Sì, posso vedere perché non vuoi lasciare questo posto, Max! È davvero meraviglioso! Non è? Allora, guarda, ho alcuni amici in Queens! Possiamo stare qui per un po' di giorni! Queens... Hai ancora un lavoro, Max? Dio, non è l'esercizio! Ah, quindi è così che è iniziata... Capitolo 5! VIVA! Anche se non è in gran forma! Miglia su per il Fiume Tietè... Ssssssssssss Ssssssss Oh, che c***o vediamo Sì C***o O che inizia l'azione O che inizia l'azione Finalmente Finalmente Non si andrà a niente Vai dentro, vai dentro, ok perfetto, perfetto Questa è una missione stilta, ultra stilta Vai, tipo Splinter Ok, perfetto, nessuno mi sente Posso per caso... Ottimo Certo, non è proprio buio, quindi mi vedrebbero... Comunque è stato solo lo spreco di una munizione Ottimo, ottimo Rex, sei un genio Oh, e ora? Science, please, bro Questo pezzo sarà altamente stilta Io ti falei perché parai di reclamare e facendo il tuo lavoro, mano I couldn't understand them, but I didn't have to Cheap hoods are the same from here to Timbuktu The slab of meat on the boat was clearly the boss Serrano, they called him And it seemed that our suspicions were correct Fabiana was here Somewhere further ahead I had to find her quickly and quietly if possible The last thing I wanted was a party with these clowns Perfetto Perfetto No Stilt Andato a farsi fottere No Cazzo Ah Merda Merda Fanculo lo stilta Fanculo Lo stilta Viva Viva Oh yeah Mia Oh, che diavolo Oh Oh Vabbè Ho una torcetta Chi c'è chi? Ma I'ts seen enough to know that Fabiano is at least alive if not exactly well But the captors didn't look like they were quite the kind and gentle type I had to find that room quickly Eh, sono cose che capitano una rapita così Ok, ok, abbiamo ancora la possibilità dello stelta Abbiamo ancora la possibilità dello stelta Ma vuoi una sigaretta? Una maledetta sigaretta Fanculo! Ma va bambene Stelta di merda Ok, non sono fatto per lo stelta Non sono assolutamente fatto per lo stelta Buia! Ok Ma andatevene a morire Venite qui Vieni qui Muori! E mi ha fatto anche spiegare un antidotorifico Questa te la metto in conto La fine del gioco Oh, 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 ecco, ecco Sembrati a questa qualcosa prima Fatti abbassare gli antidotorifici, eh? Mio Dio, Max Che cazzo vuoi? Una farmacia in mezzo a una laguna? Ok Ok, fermo Ok, la... E ora? Hai un paio di buchi Esplode? Esplode Direi di no Perché cazzo mi danno un silenziatore Se poi lo stelta non serve a niente? Sì Ciao bello Ciao 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 Lo stealth saluta Amabilmente Ringraziamenti per averci provato Ma io almeno ci ho provato Dai ragazzi Un po' di stealth lo volevo fare Poi se non Proprio No lo stealth non puoi Non puoi Ok Ok posso salire di sopra Ok prima che mi Spacchino il culo Mamma mia che ho salto Uiii 360 Ok che sta succedendo Ok perfetto ho ripreso il controllo Del mio corpo E ora mi Nozione Unico Mi fai anche sprecare gli antidolorifici Maledetti Brasigliani Teste di minchia Ovviamente intendo solo i brasiliani Rapitori di donne E Sparatori di Sparatorie Esisterà Esisterà un termine come Sparatori di sparatorie No Mangia Cazzo Ok 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 Per No Maledetto Dannazione Ho finito anche gli antidolorifici Sono sopravvissuto a 50 ultime chance Capito Sono meglio di Gesù bro Meglio di Gesù Niente armi d'oro No Pare di no Ok E dai pure tu non eri morto Che c'è Ultima chance pure te Che sei uno di quei giocatori incalliti di code Fail shot Fail shot Fail shot Fail shot Fail shot Maledizione 1 Ok 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 Fail Tutti Non uccidermi Non uccidetemi Non uccidetemi Non uccidetemi Buia Fail Buia Fail Cozzo Ma allora ditelo Questi oggetti li mettiamo a posta per farti sbagliare Prego Oh oh Sei inciampato piccolino Ma muori E non rompere più I coglioni hanno Non hai un Vabbè fai niente Fammi salire Fammi salire Io ne coi Ma ma io che faccio Io Io ho incapsulato il dente Ed è gratis Ringrazia Ringrazio Bastardo Buia Ehm Poi Perfetto Ok Vabbè Direi di usare La mia pistola Col silenciatore Con azioni Massimamente Sdelta Oh Cribbio Aspetta 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 Ho detto Buia Ora puoi sparare Ehm Morto Morto Perfetto Dammi Il mio Caro AK E ora Mi sentirete Uno Due No No Non ricaricare Ora Maledetto Max Spain Con ricarica Nei momenti Meno opportuni Ok Te lo faccio vedere Io come si spara Brasiliano Così Datemi Tutto Buia Guardate Guardate Che faccia Lattivo Come me Buia Dammi Tutto Ok Ehm A chi Ok Non chiedete Retsen Che cazzo Stai facendo Non lo so Cazzeggio Credo Penso Basta Ok 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 Dai Dai Vediamo che c'è qui Non fumare Ok Ha un tirapugni sulla borsa La tonina Oddio Salvataggio Checkpoint Sì Perfetto Ottimo Perfetto Quindi però Ci vediamo nel prossimo Videocamp laser Per il vostro Retsenotuno Ciao a tutti Bro Ciao a tutti Grazie.